Più forte del loro coraggio fu la nebbia. Gianmarco, Walter, Davide, Giuseppe, Mario, Ettore. Con questa dedica è stato inaugurato oggi il monumento al ricordo degli operatori del 118, morti nella caduta dell'elicottero a Campo Felice lo scorso 24 gennaio durante il servizio di recupero di uno sciatore. Una vecchia fontana, ristrutturata, simbolo della fonte di vita in montagna, è il monumento che resterà alle future generazioni a memoria di chi ha perso la vita per aiutare gli altri. Nei nostri cuori resteranno indelebili, ma abbiamo voluto aprire e estendere questa manifestazione a tutte le persone che potevano averli conosciuti ed anche a quelli che non li avevano conosciuti. Abbiamo realizzato con l'aiuto anche di altre aziende identiche che ci hanno supportato un monumento, un fontanile a loro dedicato che resterà per sempre a ricordare il coraggio e la dedizione di questi ragazzi scomparsi. Il giorno della tragedia ero lì presente, sono stato uno dei primi a giungere sul posto dopo il fatto. Quindi ho vissuto presente sul posto questa situazione e purtroppo erano tutti amici, erano gente che si conosceva. C'era con loro il dottor Walter Buccio che era un amico carissimo, che faceva parte anche dell'amministrazione comunale di Rocca di Cambio, dove oggi faccio il sindaco. E oggi siamo qui per ricordare questi ragazzi e questi amici che hanno lasciato la vita per fare il proprio dovere per il loro lavoro, che era quello di soccorrere e di portare aiuto a chi si diverte in montagna purtroppo.